Piano, crescendo diciamo sempre di più, ingrossando e spingendo, si riesce a diciamo far venire la persona, c'è il folletto, scusate il folletto. Sì? Chi è? Chi è? Non to? Chi è? Ecco qua, qualcuno che citofona e non si sa neanche chi è, non era neanche il folletto, non si sa, era un troll e adesso arrivano anche al citofono i troll. No, non è il, uffa, mi stavo divertendo, omicidio in diretta live, no, sono tornato. E qualcuno che ha citofonato e poi non risposto, sentivano delle voccine sotto e il folletto ci ha salvati perché, non so, qualche cretino che citofona. E' così, era Dolly che avrà lanciato l'anatema. Sti deficienti, adesso dovrebbe avere una pistola, andare giù e sparare, fare una strage quando stono sti cretini.